Su, destiamoci dal sonno e corriamo incontro all'amore, corriamo incontro all'amore che viene per noi, perché quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo, latte e miele scorrerà per le colline e noi vedremo la luce, la vera luce che viene nel mondo per spazzare via ogni ingiustizia, odio e soppruso e riportare l'armonia e la pace che Dio Padre ha stabilito da sempre. Carissimi, è iniziato l'avvento, buon cammino a tutti amati dal Signore. Che Dio vi doni ogni grazia, ma balate bene, che proposito vi siete posti per questo avvento 2022, che proposito. Il Signore vi donerà ogni grazia se voi sarete in stato di grazia. Su, destati dal sonno e corri, corri incontro all'amore. Amen.